Ivano e Alfredo Pellegrini hanno denunciato i recenti lavori di esumazione di alcuni defunti al cimitero di Varone. Secondo quanto dichiarato dagli interessati, i morti sarebbero stati esumati con l'ausilio di un escavatore senza particolare rispetto per i resti dei loro cari. Hanno scavato con la benne e buttato le ossa scavate a lato della tomba, hanno spiegato. Da giovane aiutavo mio padre in questo genere di lavori, confida Pellegrini. Si doveva scavare fino alla bara, aprirla e recuperare tutte le ossa in apposita cassetta e solo dopo finire di scavare l'intera buca. Un'operazione che con l'apposita determina era stata affidata dal comune ad una ditta trentina. Non hanno agito nel modo corretto, insistono, e per queste ragioni siamo andati a chiedere spiegazioni in comune. Qui inizia l'odissea dei Pellegrini, che prima incontrano il vice segretario Anna Cattoi, poi incontrano l'assessore Massimo Accorsi, il quale gli rimanda a sua volta al sindaco Adalberto Mosaner. L'esumazione è solo uno dei problemi, hanno precisato. I corpi erano completamente immersi in acqua e un terzo di quegli esumati non era per nulla consumato e hanno dovuto seppellirli nuovamente a Grezze. L'intenzione dei Pellegrini è quella di chiedere un risarcimento per danni morali, che sia dato in beneficenza o adoperato per sistemare il cimitero. Il sindaco Adalberto Mosaner intanto fa sapere che la problematica è all'attenzione degli uffici competenti. Ho inoltrato il tutto ai servizi cimiteriali, chiarisce il sindaco di Riva. Personalmente ho chiesto delle risposte che ho ottenuto solo parzialmente. Adesso che è finito il periodo impegnativo della chiusura del bilancio, gli uffici proseguiranno il loro lavoro.